Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Sono usciti i dati dell'ISAC CNR relativi al mese di maggio che si è appena concluso e ci mostrano come c'è stata un'anomalia termica di 0,14 gradi in negativo, quindi è risultato essere un mese più freddo della media trentennale relativa al periodo 1991-2020. Questo è a causa delle frequenti perturbazioni che hanno portato chiaramente le temperature a mantenersi su valori un po' più bassi rispetto al normale e questo è successo soprattutto al centro-sud dove gli scarti sono maggiori. Per quanto riguarda le piogge, anche qui è piovuto davvero in tutta Italia, infatti questa grafica è abbastanza esaustiva, ci mostra come accumuli medi intorno ai 150-200 mm hanno riguardato veramente molte zone del nostro paese, con picchi anche vicini e superiori ai 300-400 mm a ridosso dell'arco alpino occidentale, ma soprattutto sull'Appennino Emiliano-Romagnolo. Dando lo sguardo al satellite, in queste ore c'è stato un ubifragio tra l'altro nella notte che ha colpito proprio la città di Torino, abbiamo ancora una situazione comunque di spiccata variabilità. Nel corso del pomeriggio verso sera sono attesi nuove equazioni temporali lungo tutta la fascia penninica con sconfinamento dei fenomeni ai versanti terrenici anche sulla Puglia. Verso sera andrà peggiorando nuovamente sull'arco alpino con fenomeni che andranno estendendosi alle zone di pianura entro martedì del nord-ovest con nuovi temporali che localmente potranno essere anche intensi. Infatti si avvicina a un vortice di aria piuttosto fredda dal nord Europa che andrà a fondersi con un'altra aria instabile in arrivo da ovest, determinando questa circolazione depressionaria che a metà settimana coinvolgerà un po' tutto il nostro paese riportando condizioni anche di maltempo con piogge rovesce a più riprese oltre a un calo delle temperature anche sensibile. Ma per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.